Avvocato Del Paggio riparte la stagione del Campli Basket, innanzitutto partiamo dalle cose recenti con di fatto il primo contatto della nuova squadra con i tifosi che ci sarà il 17 agosto, ci sarà una cena in cui praticamente di fatto sarà presentata la nuova squadra farnese. Certo, prima le 19 nella sala consigliare del Comune ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, una squadra nuova per buona parte rispetto all'anno scorso con elementi di provata esperienza e giovani promesse dalle quali veramente ci aspettiamo molto. È stato un lavoro molto accurato la scelta, compiuta dal nostro allenatore Piero Milline che abbiamo confermato e che credo abbia messo su un bel gruppo di giovani, soprattutto pronti a interpretare quello che è lo spirito della palacanestro camplese. Perché noi il 17 presenteremo la squadra, avremo tanti tifosi presenti ma poi festeggeremo insieme in una conviviale questo evento perché lo spirito della nostra associazione è quello proprio dell'amicizia, della coesione, della compartecipazione, della condivisione. Siamo un gruppo di persone, ma centinaia di persone. Abbiamo lanciato qualche tempo fa l'operazione Al Cuore si comanda perché ho fatto cancellare il non si comanda e abbiamo già avuto un centinaio di tesserati e sta proseguendo questa grande sottoscrizione nel cui ambito ciascuno mette quello che vuole. Però è bello perché tutti partecipano, tutti si sentono partecipi di questa grande istituzione della campresità che continua, noi l'anno prossimo compiremo 60 anni di ininterrotta partecipazione ai campionati nazionali che continuano, una tradizione storica ma con un entusiasmo e una passione sempre rinnovata. Ecco il 17 sarà l'occasione per rivivere in maniera rinnovata questa passione.